Musica Bentrovati con il TG Lease di Telebari. Gli alberghi e la struttura sportiva che domenica avrebbero dovuto ospitare i sei seggi delle primarie sono stati disdetti. I responsabili del Partito Democratico hanno cancellato le prenotazioni. Non ci servono più. E il segnale ufficiale dopo che ieri sera Giuseppe Conte ha tirato fuori il Movimento 5 Stelle dalle primarie che avrebbero messo a confronto Michele Laforgia e Vito Leccese, sostenuto dal PD. Resteranno inutilizzate anche le 25.000 schede già stampate con il nome dei due contendenti. Io resto in campo. Vado avanti insieme alle tantissime persone che ho incontrato in queste settimane e che mi sostengono. Vado avanti non per me ma per la città che amo. Per difendere quello che è stato fatto dalle amministrazioni di centro-sinistra e per continuare a crescere migliorando. Lo faccio per quella comunità coesa e forte di cittadini e cittadine che in questi anni si sono sentiti sempre più orgogliosi di essere baresi. Lo annuncia su Facebook Vito Leccese, uno dei due candidati del centro-sinistra alle comunali di Bari. Dopo che il suo sfidante Michele Laforgia ha deciso di non partecipare alle primarie. E adesso le altre notizie del TGLIS. Abbiamo disposto la massima intensificazione della azione di prevenzione generale su tutto il territorio della città metropolitana con servizi straordinari da parte dei reparti speciali delle forze di polizia. Sono in corso attività a 360 gradi per assicurare alla giustizia i responsabili e per prevenire qualsiasi ulteriore episodio. Lo ha detto il prefetto di Bari, Francesco Russo, a margine del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, convocato in seguito all'omicidio del pregiudicato Raffaele Capriati, ucciso a Torriamare la sera di Pasquetta. La Regione Puglia ha lanciato l'applicazione Puglia per te, il nuovo assistente virtuale per ricevere in tempo reale sul proprio smartphone informazioni su notizie, iniziative e opportunità dell'ente regionale. La nuova app consentirà di restare aggiornati su notizie, bandi, avvisi e concorsi destinati dalla Regione Puglia a persone fisiche, enti, imprese e organizzazioni del terzo settore. L'applicazione è disponibile sia per iPhone sia per Android. Tutto pronto per l'edizione 2024 di Vivi Città, la manifestazione podistica organizzata da WISP Bari in programma domenica 14 aprile. La novità più grande di questa edizione che prenderà il via alle 9.30 da largo 2 giugno è l'abbinamento con la Running Heart, la Corsa del Cuore. Sabato 13 aprile nel Vivi Città Village sarà presente infatti il villaggio della prevenzione dove sarà possibile effettuare gratuitamente elettrocardiogramma e misurazione della glicemia. Dall'8 all'11 aprile la Regione Puglia partecipa a Bologna Children's Book Fair con uno stand istituzionale che riunisce nove case editrici per promuovere l'editoria e il settore della illustrazione. La rassegna che nella scorsa edizione ha visto la partecipazione di oltre 1.400 espositori in arrivo da 90 paesi del mondo. Da oltre 60 anni è un evento di riferimento per chi lavora nel campo dell'editoria e dei contenuti dedicati a bambini e ragazzi rappresentando l'evento più importante a livello mondiale per lo scambio dei diritti editoriali. E adesso le notizie dall'area metropolitana e dalla Regione. Le auto dei proprietari di un negozio di abbigliamento di parabita in provincia di Lecce sono state distrutte da un incendio divampato nella notte. Si tratta di due auto intestate a un 58enne e a un 47enne del posto. Le fiamme sono scoppiate in via Cesare Battisti dove erano parcheggiati i due mezzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce. Sulle cause che hanno dato origine al ruogo indagano le autorità competenti. La sentenza del Tarpuglia che ha annullato gli aumenti della rete nella RSA stabiliti dalla Giunta regionale pugliese ha rasserenato le famiglie dei pazienti ospiti nelle strutture di Foggia. Al momento quegli aumenti sono congelati spiega il presidente dell'Associazione di Impegno Civico Io ci sono, Savino Montaruli. Durante l'assemblea svoltasi alla presenza del gruppo operativo RSA RSA Santa Maria Don Uva di Foggia alla quale hanno partecipato anche i familiari di alcuni ospiti della RSA San Raffaele di Troia e San Nicandro Garganico. Circa 100 kg di prodotti dolciari sequestrati e 4 attività chiuse per carenze igienico-sanitarie e strutturali e il bilancio del servizio di controllo dei carabinieri del NAS di Taranto svolto durante le feste di Pasqua tra Brindisi e provincia. L'obiettivo dei servizi era accertare la regolarità delle condizioni igienico-sanitarie e strutturali degli ambienti dove venivano preparati gli alimenti. Intensificate quindi le verifiche nel settore alimentare a tutela della salute dei consumatori. E' stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza il cittadino straniero che venerdì scorso ha rubato il borsello ad un autotrasportatore impegnato in una consegna a Barletta. Il camionista aveva parcheggiato il suo tir vicino a un'attività commerciale ed era sceso dal mezzo per consegnare la merce. Un uomo intanto è salito nella cabina e ha portato via il borsello in cui c'erano 45 euro in contanti, carte di credito e bancomat oltre a chiavi e altri oggetti. L'autotrasportatore ha denunciato l'accaduto alla polizia ferroviaria in servizio di vigilanza nella stazione vicina. Le indagini eseguite grazie al supporto delle telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta la scena e hanno consentito di individuare l'autore del furto. E con il TgList è tutto. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento. Grazie a tutti.